Sono tante le novità qui a Bari, ad Agri Levante, nello spazio della nuova Fiera del Levante per la settima edizione di questa manifestazione dedicata alla meccanica agricola per le zone, le aree del Mediterraneo. Tantissime novità ma anche un grande ritorno quello della zootecnia perché se nei padiglioni sono ovviamente esposte macchine per la fienagione, per l'alimentazione negli allevamenti, le nuove tecnologie per una gestione delle stalle rispettosa dell'ambiente e del benessere animale, c'è tutta un'area coperta assolutamente nuova per la prima volta, 10.000 metri quadrati che ospitano un po' una piccola arca di Noè. Intanto qui dove ci troviamo noi è l'area per le esibizioni, le sfilate, le gare di livello regionale e nazionale e poi c'è una parte che ospita gli animali e sono davvero tantissimi i capi. Rasse autoctone, razze nazionali e internazionali, abbiamo ovviamente i bovini da latte, ci sono le frisone, ci sono le brune, i bovini da carna, le limusine e poi le razze italiane, marchigiana e la romagnola e poi i cavalli, i cavalli murgese, il cavallo da tiro pesante e rapido, l'asino di Martina Franca, c'è esposizione e c'è anche spettacolo perché ci sono cavalli e asini bardati come era tradizione che girano qui tra i padiglioni della fiera. Poi ci sono le pecore, ci sono le capre, ci sono gli avicoli e tra le tante razze presenti qui ad Agri Levante, tra le tante specie ovviamente abbiamo scelto quella che possiamo considerare un po' la padrona di casa la gentile di Puglia, pecore, pecore che un tempo erano diffusissime, si dice negli anni 70 addirittura un milione e duecentomila capi perché erano le pecore della famosa transumanza, quindi fanno parte davvero della storia, della tradizione di questo territorio poi le cose sono cambiate, l'agricoltura è cambiata, adesso sono se non a rischio di estinzione ma comunque i capi sono davvero pochi qui con me Giuseppe Bramante che è allevatore di questa bellissima razza, gentile perché? Gentile perché nonostante sia una razza rustica presenta un comportamento particolare sia nella scelta delle erbe quindi fa una selezione, sceglie solo le erbe più gustose e più aromate e sia perché anche la carne che si ottiene da questi animali è una carne delicata, non è particolarmente aggressiva, non si sente l'odore, non è marcatamente l'odore tipico delle pecore e quindi è molto molto delicata, è gentile è gentile esatto in origine l'utilizzo di questa pecora, di questi animali era per la lana poi anche lì le cose sono cambiate completamente e quindi carne, latte, latte, carne, quali sono le priorità? allora sicuramente, storicamente la lana, come diceva, è una lana merinos, estremamente fine, pregiatissima siamo intorno ai 20 micro ma anche meno, quindi diciamo è paracolabile con le migliori lane presenti al mondo purtroppo l'avvento delle fibre sintetiche ha fatto sì che la lana perdesse la sua importanza, la sua valenza economica e quindi questa razza oggi viene allevata anche per la produzione di carne e produce anche del latte si tratta di produzioni limitate però di qualità e anche dal latte si ottiene quello che è poi il canestrato foggiano dop formaggio tipico ottenuto con il latte di queste pecore sono comunque animali molto rustici, li vediamo anche così, hanno le zampe molto grosse forse gli è rimasta resistente, gli è rimasta dai tempi della transumanza, si erano adattate a questa vita nomade certo ma tuttora loro vivono 365 giorni al pascolo insomma il pascolo rappresenta la loro fonte di alimentazione quindi si muovono e la transumanza avviene ancora semmai con tutte le difficoltà che dicevamo perché è l'animale nell'allevamento tradizionale è l'animale che segue l'erba quindi durante il periodo primaverile estivo da noi è tutto secco l'erba le troviamo sui pascoli dell'Abruzzo e del Molise quindi gli animali si spostano lungo i trattori, queste larghe strade insomma dove gli animali man mano pascolavano durante questa migrazione e raggiungono i pascoli montani qui sostano tutto il periodo estivo per poi ritornare a settembre, settembre migrare insomma la poesia famosa e il dannuzio quindi ritornano, ritornano poi in Puglia e la transumanza poi ha caratterizzato la vita delle nostre popolazioni anche da un punto di vista umano, sociale le nascite erano più o meno anche degli uomini erano concentrate in certi periodi quando i pastori tornavano dalla transumanza e viceversa quindi no davvero quando si dice che fa parte sì della cultura proprio, della storia insomma c'è un legame fortissimo